Il nucleo operativo ecologico dei carabinieri in collaborazione con il personale della guardia di finanza nucleo polizia tributaria di Agrigento ha eseguito il sequestro preventivo di tutti i beni aziendali dell'impresa AegSRL con sede a Camastra avente in gestione la locale discarica nonché il sequestro per equivalente della somma di 2 milioni di euro inclusi con tanti beni immobili quote societarie e di altro tipo. I beni sequestrati sono nella disponibilità degli indagati Donato D'Angelo, Salvatore Alaimo, Calogero Alaimo, Alfonso Bruno e Pasquale Di Silvestro. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni locali e domiciliari nei confronti dei sette principali indagati. La complessa indagine diretta dalla procura di Palermo direzione distrettuale antimafia guidata da Francesco Lovoi avviata nel mese di marzo del 2014 ha consentito di delineare il modus operandi di un sodelizio criminale responsabile del reato di traffico e lecito di rifiuti di numerosi reati ambientali nonché dell'illecito configurante la responsabilità amministrativa della società. In particolare le investigazioni svolte anche attraverso attività di intercettazione hanno dimostrato come la pratica fraudolenta della declassificazione dei rifiuti costituisse il vero e proprio oggetto sociale perseguito stabilmente dall'impresa di servizi ambientali con la finalità di ricevere illecitamente smaltire abusivamente nella discarica ubicata a Camastra rifiuti speciali pericolosi provenienti praticamente dall'intero territorio nazionale artatamente declassificati come non pericolosi. Questa operazione è stata possibile avvalendosi di un laboratorio chimico compiacente che si trova a Catania in grado di manipolare i risultati delle analisi dei campioni di rifiuto con evidenti danni permanenti cagionati oltre al territorio anche all'ambiente al servizio pubblico essenziale rappresentato dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non in provincia di Agrigento, dicono gli inquirenti. L'illecito profitto di questa attività è stato quantificato in due milioni di euro nel solo periodo oggetto dell'indagine. L'inchiesta è coordinata dai pubblici ministeri Geri Ferrara e Gualtieri. Grazie.